I sigili erano schiattati ad inizio gennaio 2019 a seguito di un'inchiesta sul ritrovamento di rifiuti, tra cui anche Amianto, sotto ad un impianto di autodemolizioni. Adesso anche il sindaco di Sansepolcro, Mauro Cornioli, ha ricevuto l'avviso di garanzia dalla procura di Arezzo con l'accusa di omissione dati d'ufficio. L'impianto del Biturgenze era finito nel mirino dei carabinieri forestali perché privo di autorizzazioni necessarie al trattamento di impianti a gas delle vetture. Nel gennaio 2019, quindi, il sequestro e successivamente gli approfondimenti fatti nel terreno sottostante dagli inquirenti avevano mostrato la presenza di rifiuti anche pericolosi come Eternit e Amianto. Si sarebbe trattato, secondo l'accusa, di una sorta di discarica illegale tombata. L'amianto, in base a quanto appreso dall'indagine, era stato infatti trovato nascosto nel sottosuolo, occultato sotto l'area dove operava l'impianto. Ed adesso il sindaco Mauro Cornioli ha ricevuto un avviso di garanzia per omissione di atti d'ufficio. Il primo cittadino, tramite l'avvocato di fiducia Piero Melani Graverini, ha già chiesto di essere ascoltato dal procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi per chiarire la propria posizione, sottolineando la complessità dei collegamenti tra gli enti preposti e le difficoltà di interpretazione e attuazione della normativa ambientale.